Una luminaria di 120 metri nel cuore del rione Sanità, col testo completo della canzone di Pino Daniele, Napulè. Ideata da Tiziano Corbelli e realizzata dall'artigiano Antonio Spiezia, l'opera è stata prodotta col contributo di alcuni commercianti del rione. All'inaugurazione, accompagnata dal coro dei bambini della Fondazione San Gennaro, erano presenti fra gli altri James Senese e... Una cosa bella ricordata per anni e secoli, secondo me. ...e contro le ombre, un lavoro poi di squadra, i commercianti Ciro Pelle e Ciro Liva, la fondazione di comunità con il coro dei bambini, le istituzioni presenti, ma anche la famiglia di Pino Daniele e tanti amici che stasera ci faranno delle piccole sorprese. Una bella serata e soprattutto continuiamo a portare l'immagine di questo quartiere sempre più su, continuiamo a stimolare l'economia del quartiere, quella sana, la cultura, l'arte, il turismo, il commercio. Comunque, una bella serata. Una grande esplosione di vitalità e di rigenerazione. Grande lavoro che mette insieme istituzioni, abitanti, commercianti, la parrocchia, i ragazzi. Io sono molto orgoglioso di quanto ho visto crescere e cambiare in meglio questo quartiere. Ripeto, tra tante difficoltà, senza nascondere nulla, perché i problemi sono tanti, però vedo prevalere ogni giorno il bene sul male. E questo è un grande messaggio positivo, soprattutto per l'ordine.